anzitutto volesti mostrarmi come tu resistai superbi mentre elargisci la tua grazia agli umili e con quanta misericordia tu abbia indicato agli uomini la via dell'umiltà dal momento che il tuo verbo si è fatto carne e abitò in mezzo agli uomini per mezzo dunque d'un uomo gonfio d'orgoglio smisurato mi provvedesti alcuni libri dei filosofi platonici tradotti dal greco il latino vi trovai scritto se non con le stesse parole con senso assolutamente uguale e col sostegno di molte ragioni che al principio era il verbo e il verbo era presso dio e il verbo era dio egli era in principio presso dio tutto fu fatto per mezzo suo e senza di lui nulla fu fatto ciò che fu fatto è vita in lui e la vita era la luce degli uomini e la luce nelle tenebre e le tenebre non la compresero poi che l'anima dell'uomo sebbene renda testimonianza del lume non è tuttavia essa il lume ma il verbo dio è il lume vero che illumina ogni uomo su questa terra e che era in questo mondo e il mondo fu fatto per mezzo suo e il mondo non lo conobbe ma io non lessi in quei libri egli venne tra i suoi e i suoi non lo accolsero e a tutti quelli che lo accolsero diede la possibilità di diventare figli di dio credendo nel suo nome e lessi sempre in quei libri che il verbo dio non è nato da carne e da sangue non da volontà d'uomo né da volontà di carne ma è nato da dio che però il verbo si è fatto carne abitò fra noi non lo trovai scritto in quei libri vi scoprì certo con parole ed espressioni diverse che il figlio per la conformità col padre non giudicò un'usurpazione la sua eguaglianza con dio propria a lui di natura ma il fatto che si annientò da sé assumendo la condizione servile rendendosi simile agli uomini e mostrandosi uomo nell'aspetto si umiliò prestando ubbidienza fino a morire e a morire in croce onde dio lo innalzò dai morti e gli donò un nome che sovrasta ogni nome affinché al nome di gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo in terra agli inferi e ogni lingua confessi che il signore gesù sta nella gloria di dio padre che non è contemplato in quei libri vi si trova che il tuo figlio unigenito esiste immutabile fin da prima di ogni tempo e oltre ogni tempo eterno con te che le anime attingono la felicità dalla sua pienezza e diventano sapienti rinnovandosi grazie alla partecipazione della sapienza in sé stessa stabile ma il fatto che morì nel tempo per i peccatori e invece di risparmiare il tuo unico figlio lo hai consegnato per noi tutti non si trova in quei libri infatti tu hai tenuto nascoste queste verità ai sapienti e le rivelasti agli umili affinché gli afflitti e gli oppressi vadano a lui ed egli le ristori poiché il suo cuore è mite e umile e guiderà i miti nella giustizia insegnerà ai mansueti le sue vie osservando la nostra umiltà e la nostra sofferenza rimettendoci tutti i nostri peccati ma quelli che si sono fatti alti con i coturni di una dottrina creduta più sublime non lo ascoltano quando dice imparate da me poiché sono mite e umile di cuore e troverete il riposo per le vostre anime sebbene conoscano dio non lo glorificano ne ringraziano come dio ma si disperdono nei loro pensieri inutili e il loro cuore ignorante si offusca proclamandosi saggi diventano stolti ed in quei libri io vidi anche la gloria della tua incorruttibilità trasformata in idoli e simulacri di ogni genere foggiati a immagine dell'uomo corruttibile e degli uccelli e dei quadrupedi e dei serpenti vi si può vedere il cibo egiziano che causò ad esaù la perdita dei privilegi della primogenitura il popolo onorò al suo posto la testa di un quadrupede col cuore rivolto in egitto e la tua immagine la sua anima curva innanzi all'immagine di un vitello che si ciba di fieno trovai queste cose in quei libri e non me ne cibai tu hai voluto signore togliere a giacobbe l'infamia della sua inferiorità affinché il maggiore servisse al minore chiamasti le genti alla tua eredità quindi io venuto a te dalle genti fissai il mio sguardo sull'oro che per tuo volere il popolo prediletto asportò dall'egitto poiché dovunque era era cosa tua dicesti agli eteniesi per bocca del tuo apostolo che noi viviamo in te e ci muoviamo e stiamo come dissero anche alcuni loro sapienti e senza dubbio quei libri provenivano di là così non prestai fede agli idoli egiziani ai quali rendevano culto con il tuo oro quelli che cambiarono la verità di dio in menzogna e preferirono servire la creatura anziché il creatore